Parla con i tifosi del Napoli, benvenuti nel nostro canale delle notizie, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessun nuovo video qui sul nostro canale del Napoli, e ora andiamo alle notizie. Il Napoli conferma l'ingaggio del portiere Pierluigi Gollini Il Napoli ha confermato mercoledì l'acquisto del portiere Pierluigi Gollini. L'ex portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini dovrebbe raggiungere il Napoli in uno scambio che coinvolge anche Salvatore Sirigu. Gianluca Di Marzio ha comunicato che Gollini si sta ora sottoponendo alle visite mediche al Napoli, con l'accordo di scambio già concluso. Sirigu va in prestito alla Fiorentina, con il Napoli che ha la possibilità di acquistare Gollini a titolo definitivo nella finestra di mercato estiva. Nelle prossime ore Sirigu si sottoporrà anche a visita medica con la Fiorentina e, una volta completati i due esami, i due giocatori firmeranno i contratti con i nuovi club e completeranno i loro trasferimenti. Gollini è stato un acquisto deludente per la Fiorentina ed è stato criticato per le sue prestazioni per la squadra. Nel frattempo, Sirigu non ha giocato una volta per i Partenopei dopo essere arrivato in estate dal Genoa a titolo gratuito. Alex Meret si è affermato come titolare regolare dei Partenopei. In questa stagione ha collezionato tre presenze in Serie A, registrando due reti inviolate ed è stato il portiere della Fiorentina in Europa a Conference League e cinque partite.